Oltre ad aver rubato in qualche abitazione, non hanno risparmiato sellini e ruote delle biciclette posteggiate lungo via della Marina Sassonia di Fano. Una signora ci racconta che è ben la decima volta che accade alla sua famiglia. Stanchi della situazione, i residenti chiedono per il fine settimana più controlli da parte delle forze dell'ordine e telecamere di videosorveglianza nei punti strategici. Questo è il fulcro del vandalismo, qui succede di tutto. Io a sindaco sede chiedo un protocollo, siccome tutti i sindaci hanno il protocollo contro gli atti vandalici, e consiste in questo, a mezzanotte di non dare più da bere alcolici ai ragazzi, evitare i gruppi di 20-30 persone, perché qui arrivano addirittura gruppi di 20-30 persone e si sa che quando la gente è in gruppo riesce a dare tutto se stesso contro il patrimonio e anche le cose private. E installare le telecamere nei posti fulcro dove c'è il passaggio delle persone. I problemi però non sono solo questi, infatti come ci spiega il signor Aurelio, da quando è stata cambiata la viabilità dalla vecchia amministrazione, le strade sono diventate pericolose per tutti, in particolare per pedoni e ciclisti. Che cosa serve qua? Servono delle strisce, passaggio pedonale, perché qui se no quanto si esce dalla scuola è un gran macello, perché ci sono tantissime macchine che vengono giù e noi con i bambini a mano siamo sempre a rischio. Inoltre pensava anche che sarebbe una cosa necessaria cambiare la viabilità, per quale motivo? Perché qui gli fanno venire su in Viale Dante Lighieri, in Croce via della Marmarina, Gli obbligano ad andare verso mare, verso mare vanno sopra la pista ciclabile e in più poi verso mare gli obbligano ad andare verso Pesaro. Poi cosa fa la gente? Non essendoci posti in macchina niente, cosa fa? Rigira e un quarto d'ora dopo gli ritrovi qui, o se no moltissima gente insomma marcia dietro e viene su.